Ciao ragazzi, siamo tornati qua oggi per andare a commentare l'ennesima sconfitta di questo 2023 contro il Padua, una sconfitta che ci fa scendere sempre di più in classifica. In questo momento il Novara è tredicesimo a tre punti di distanza dalla zona play-out, quindi è una situazione che è sempre più grave, sempre più preoccupante e a proposito di questa situazione inizio il video dicendo che mi aspetterei due parole dal Presidente che fino al momento in cui sto registrando il video non ha rilasciato nessuna dichiarazione, da un po' che il Presidente non parla, nelle ultime settimane sono arrivate solo sconfitte, una squadra che non ha carattere, non c'è un gruppo unito e la situazione è sempre più preoccupante, mi aspetterei due parole dal Presidente comunque per far vedere che anche la società è vicina e presente in questo momento, molto molto difficile, veramente molto pericoloso. È un attimo che siamo lì in zona play-out e pensate un po' se non facevamo 14 punti nelle prime 6 partite, nelle prime 6 partite abbiamo fatto 14 punti su 18, quindi ne avevamo fatti comunque tanti, una media alta, una media da promozione, pensate se a posto di fare quei 14 punti ne avessimo fatti 7 o 8. A quest'ora avremmo non 37 punti, ma ne avremmo 30 all'incirca e saremmo penultimi, terzultimi, saremmo in zona retrocessione proprio piena, quindi per fortuna che a inizio anno abbiamo fatto quel buon inizio di stagione, quei 6 risultati utili consecutivi, tra cui 4 vittorie, sono in questo momento in una situazione veramente drastica. Cosa c'è da dire? Commentare la partita non sarebbe altro che ripetere le stesse cose. Un Novara senza carattere, un Novara che non ha gioco e soprattutto la cosa che secondo me fa arrabbiare di più anche i tifosi che vanno lì a vedere la partita è che il Novara parte sempre sotto 1-0, perché anche contro il Padova al decimo minuto eravamo già sotto 1-0, come la partita prima contro la Pro Sesto, come la partita ancora prima contro il Lecco. Il Novara che avrà preso più di 10 gol nei primi 15 minuti e partire già sotto 1-0 non è sicuramente una bella cosa, ma veramente se uno non ha visto i gol che ha fatto il Padova e se li va a rivedere, sono i due gol fatti con una semplicità assurda. Non è che il Padova ha segnato con un tiro da 40 metri, è andato sotto il 7, imprendibile, bravo lui ha trovato il gol dell'anno, ma sono delle azioni semplici che ha fatto il Padova, veramente proprio delle azioni scolastiche, il Novara che non si è minimamente opposto anche sul secondo gol di Bortolussi. L'esterno supera Calcagni con una facilità disarmante, poi mette la palla in mezzo, Bortolussi anticipa due difensori e segna Bortolussi, poi è un gol praticamente scontato già gli ha scritto, ma anche gli altri due, il primo gol, il Novara che era tutto in aree, si fa sorprendere, praticamente il giocatore del Padova, Vazic, credo che si chiami così, ha tirato un rigore in movimento e ha spezzato Pelagotti, quindi stiamo a parlare ancora una volta di un gol, non dico un gol regalato, perché un gol regalato è quando magari il difensore perde la palla e l'attaccante si trova tu per tu con il portiere, però sono dei gol fatti fare senza opporsi, con una semplicità veramente grave, perché il Novara ultimamente sta subendo veramente, veramente tanto e crea poco. Dopo il primo gol il Novara ha avuto una piccola reazione, mi sono piaciuti nel primo tempo Rocca e Tentoni, qualche scambio che poi ha portato dei cross in mezzo, ma alla fine l'unica grande occasione del Novara nel primo tempo che arriva da una palla persa del Padova, è stato il tiro di Pablo, in cui sicuramente poteva fare meglio, doveva sicuramente centrare la porta. Pablo è stato l'unico a provarci, ha fatto 3-4 tir nel primo tempo, che sono più di tutti quelli che ha fatto V3 Bortolussi in quasi un anno, giusto per dire, ha sicuramente dato il massimo, ovviamente poteva fare di più nell'occasione grande che ha avuto, però veramente è il giocatore in questo momento che ha meno colpe per questa situazione. Per il resto il gol lo segna Gallupini e adesso io credo che dobbiamo occuparci un po' di Gallupini. Di questo giocatore stiamo parlando di un giocatore che ha fatto 28 partite, 7 gol, 3 assist, giusto per riportare le statistiche complete in campionato, è un giocatore che si conferma soprattutto in questo 2023, l'unico giocatore pericoloso del Novara, l'unico che può segnare, l'unico che può fare qualcosa oltre a Pablo, però Pablo l'ha fatto giocare poco prima di questa partita, secondo me Pablo non era mai stato titolare nel 2023, quindi io credo che Gallupini sia l'attaccante più pericoloso. D'altronde fino adesso è il nostro migliore marcatore, il secondo migliore marcatore è Marginean, che è un centrocampista, ha segnato un gol su un errore di Donnarumma, un gol che comunque non era semplice perché ha tirato da metà campo, nonostante la porta fosse vuota, ma quello che ancora una volta fa arrabbiare i tifosi è un po' l'esultanza di Gallupini, un'esultanza provocatoria, no, non voglio definire la provocatoria, un'esultanza molto carica, molto vivace, nonostante il Novara stava perdendo 2-0 ed era sotto anche di un uomo, quindi non c'era tanto da festeggiare e alcuni l'hanno interpretata come un po' provocatoria, anche perché Gallupini è il giocatore che più di tutti viene preso di mira e secondo me viene preso di mira non per quello che fa in campo, perché se venisse preso di mira solo per quello che fa in campo, allora bisognerebbe criticare Butai, Spalluto, Tavernelli, Bortolussi, anche se se ne è andato via, tutti gli attaccanti, Buric, perché stiamo parlando del miglior immagatore del Novara che è Gallupini, quindi se si critica Gallupini, anzi non criticare, se si insulta Gallupini solo per quello che fa in campo, secondo me non è giusto, perché sono tanti altri che hanno fatto meno, Bortolussi ha giocato tanto e ha segnato poco, Spalluto ha avuto tante occasioni e non ha ancora fatto un gol, non parliamo di Tavernelli e di Buric. Viene insultato, io mi ripeto, mi sono sempre contro agli insulti per un giocatore che veste la maglia della scuola che tiffi, viene insultato per le sue esultanze, per quello che dice poi in conferenza, si descrive come un grandissimo giocatore, quindi poi il tifoso si aspetta sempre la giocata. E c'è stato un confronto a fine partita, un confronto a fine partita che ha descritto veramente una situazione molto preoccupante, un rapporto tra squadra e tifosi che in questa stagione è veramente ai minimi storici e non è stato sicuramente bello vedere delle scene del genere, perché sono scene frutto di una situazione molto complicata, di una situazione difficile. Non ho sentito benissimo il confronto tra il tifoso e i Gallupini. Allora, io sono sempre contro gli insulti, le minacce che vengono rivolte ai calciatori, se il calciatore non te la rivolge a te, perché il caso di Ben Alouane è diverso, perché Ben Alouane, da quello che è stato detto, non sono sicuro al 100% di quello che sto dicendo, ma sono delle voci che sono girate, ero lì, e Ben Alouane guardava anche con un po' una faccia intimidatoria un tifoso con una quale ha avuto un battibecco, però sono volate parole anche da Ben Alouane, alcuni dicono che Ben Alouane abbia detto ti aspetto fuori, quindi quella è una scena diversa, sicuramente da condannare anche l'errore del calciatore. Minacciare i Gallupini, secondo me, non è corretto, ma più che altro perché stiamo parlando del giocatore più pericoloso della tua squadra, un giocatore che sta indossando la tua maglia e in questo momento andare a minacciare, insultare i giocatori, anche se il tifoso può essere nervoso, può essere arrabbiato perché spende, perché sotto la pioggia va a vedere il Novara e butta via il pomeriggio per seguire il Novara, secondo me non è utile, non è utile perché Gallupini fa parte del Novara, Gallupini è il nostro uomo più pericoloso e se ci dobbiamo salvare dobbiamo stringere i denti e cercare, secondo me, di essere vicini alla squadra. Poi bisogna distinguere critiche da insulti, le critiche ci possono essere, se in un confronto tra squadra e tifosi uno dice Gallupini stai facendo schifo, Gallupini per quello che hai detto in conferenza dovresti fare molto di più, questa è secondo me una cosa, andare a minacciarlo o a insultarlo secondo me è un'altra, il confronto tra squadra e tifosi ben venga perché i tifosi spendono, i tifosi buttano via il pomeriggio di una domenica sotto la pioggia con il freddo per seguire il Novara e praticamente al decimo minuto si poteva già andare a casa perché Padova era in vantaggio o al sessantesimo sul 2-0 con l'uomo in meno. Quindi i tifosi secondo me hanno ragione ad essere arrabbiati, ad essere nervosi per come sta andando perché ovviamente le aspettative erano diverse, il Novara non ha iniziato ad agosto il campionato con l'obiettivo di salvarsi all'ultimo, il Novara ha iniziato l'anno scorso il campionato con l'obiettivo di andare a playoff, secondo me l'obiettivo minimo era quello di andare a playoff, poi spesso il presidente è esagerato, parlano di Serie B ma era assolutamente un'esagerazione, quindi secondo me bisogna distinguere queste cose, bisogna distinguere gli insulti dalle critiche, le critiche secondo me ci stanno, gli insulti e le minacce a un calciatore non ci stanno, il calciatore veste ancora la maglia del Novara e quindi bisogna sostenerlo. Una volta che cambierà maglia, non dico di insultarlo, ma secondo me bisognerebbe proprio fregarsene una volta che Gallupini cambierà maglia, perché Gallupini è in prestito e a giugno secondo me se ne andrà via. E quindi niente, secondo me questo è il mio pensiero, ripeto, è giustissimo il confronto tra squadre tifosi soprattutto in una situazione complicata, ma deve essere un confronto tranquillo, un confronto anche che possa cercare in qualche modo di motivare una squadra che in questo momento appare veramente con il morale sottoterra, una squadra che è incapace di rispondere a un gol subito, è incapace di far uscire il carattere, unirsi per cercare di ottenere dei punti. Dato questo, si va domenica prossima a Siregno contro San Giuliano, è inutile dirlo, è la partita più importante della stagione, due squadre che si giocano la salvezza in questo momento, Novara e San Giuliano, San Giuliano viene da una grande vittoria a Vicenza per 3-1, era sotto 1-0 fino a primo tempo, quindi è una partita importantissima, fondamentale e non so proprio cosa dire. Vediamo come va e speriamo in questo momento, Novara non so più cosa dire, non so più neanche cosa aspettarmi. Detto questo, mi piace di lasciare like, iscrivervi al canale se non è proprio fatto, attivando la campagna di via, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre Forza Novara e del bene del mare. Ciao ragazzi!